buongiorno 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 cioè buonasera cioè buonasera no buongiorno che cosa mi dici? è una barca manicomio? è manicomio vedi come è combinato sono solo soletto poveretto da quanti anni qua a Filicudi? io di quando aveva cinque anni se no 70 ma è nato qui o no? no io non sono nato qua qua l'isola di Filicudi a me mi ha sempre piaciuto io sono dell'isola Salina, Rinella, Leni e quindi però ora è qui sempre qui no? no io non ne sono sempre qui in mezzo alle isole quest'anno sono venuto di ritardo perché purtroppo quello che è successo che è successo? ora si spera per il prossimo anno che è successo? è successo con la capitania, i documenti, cose io voglio andare non dico in regola a mille per mille ma almeno a duemila per duemila ma lei cosa vende qui? io vendo quello che pesco non pesco niente non vedo niente se pesco la raccolta vendo la raccolta ah però c'è il pesce qua no? no ma c'è quello che c'è ormai è tardi la famiglia non c'è qui? no la famiglia niente mia moglie l'ho lasciato tutti? io la moglie l'ho lasciata ma la barca no qual è l'isola? cioè preferisci la barca alla moglie? no io preferisco la barca perché la barca la devo guardare io la mia moglie si deve guardare lei se poi se ne va dal petano lo so tanta buona fortuna ciao 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 ciao